Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video Oggi video ASMR Sentite sto rumore nel mio braccialetto? Allora, questo è il mio secondo video ASMR Il primo che ho fatto, se non ve lo ricordate o non l'avete visto Vi lascio qua sopra il link per andarvelo a vedere Oggi niente, mangiato il città Allora, vorrei iniziare con il Mars Questo qui Un po' di ASMR Vi farò ancora di sicuro Un po' di sottotitoli 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 Quindi también nuts Passiamo al prossimo prodotto Che è questo qui Il nostro corso gratuito Il nostro corso gratuito è molto bello Grazie a tutti Passiamo al prossimo prodotto Che è questo qui Grazie a tutti 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 Passiamo al prossimo prodotto Grazie a tutti Buono Grazie a tutti Basta così Grazie a tutti Grazie a tutti